Esistono degli scrittori, dei cineasti, degli intellettuali che godono di una grande popolarità all'estero e meno popolarità nel proprio paese. Un esempio tipico è Paul Oster, certamente un ottimo scrittore, che in Francia ma anche in Italia è estremamente popolare e qui è conosciuto, rispettato, apprezzato ma non gode della stessa popolarità. Un esempio opposto è invece quello di Noah Baumbach, un bravo e bravissimo regista e sceneggiatore che qui in America è un autore di culto e invece in Europa, in particolare in Italia, è semisconosciuto. C'è da chiedersi ovviamente perché succedano queste cose. Ho citato questi due nomi perché hanno qualcosa in comune, nonostante appartengano a due generazioni diverse. Paul Oster ha superato i 60 anni, Noah Baumbach non arrivato ai 50. Sono dei autori di Brooklyn, colti, molto legato al mondo della letteratura alta. Noah Baumbach è il figlio di un critico del New York e di un critico cinematografico del Village Voice. Nasce, in altre parole, in un ambiente molto colto, molto raffinato e raccontano entrambi in particolare il mondo di Brooklyn più che più è quello di Manhattan. Poi le somiglianze finiscono qui perché hanno un mondo interiore, un mondo espressivo estremamente diverso. Ne parlo perché è appena uscito sugli schermi americani While We're Young, che tradotto letteralmente significamente Eravamo Giovani. L'ultimo film di Baumbach, il quale ne ha già girato un altro e sta preparando un terzo film, un adattamento dal libro Gli abiti dell'imperatore di Claire Massoud. È un autore quindi prolifico, con una carriera abbastanza particolare perché ha debuttato giovanissimo con un film di culto che si chiamava Kicking and Screaming e poi ha aspettato ben dieci anni per girare il suo secondo film, forse il suo più famoso, forse anche il più bello, che si chiama The Squid and Whale, cioè il calamaro e la balena. Ebbene, in tutti i suoi film Baumbach racconta il mondo, dicevo, di Brooklyn, il mondo intellettuale. È un mondo, diciamola tutta, molto depresso, molto triste, con uno sguardo sempre orizzontale, ma è verticale, che non c'ha nulla di trascendente, non ha nulla di spirituale, non ha nulla che in qualche modo offra ritenzione. I suoi personaggi cercano sempre un appagamento, una gioia del momento, sapendo che prima o poi tutte queste gioie vengono a scomparire. In quest'ultimo film racconta l'amicizia di una coppia che sta avvicinandosi ai 50 anni, lo interpretano benissimo Ben Stiller e Naomi Watts, e due giovani, interpretati invece da Adam Driver e Amanda Seyfried, molto, molto più giovani, si tratta di 25 e 26 anni, che sono cool, sono fichi, diremmo noi, in Italia, e in qualche modo sconvolgono la loro vita. Questa amicizia nasce su un momento di entusiasmo, di condivisione, e poi a poco a poco si arricchisce di elementi meno nobili, che portano ovviamente, inevitabilmente, ad una crisi. Il film si apre con una citazione da Ibsen, dove il grande drammaturgo, racconta come le generazioni di mezza età sospettino, se non addirittura, disprezzino le più giovani. In realtà in questo film succede quasi l'opposto, perché le persone di mezza età accolgono i più giovani, rimangono affascinati, rimangono affascinate addirittura dal fatto che i più giovani sembrano aver apprezzato e celebrato alcuni elementi e alcuni oggetti tipici della loro generazione, per esempio i dischi in vinile, per esempio il VHS, o per esempio ascoltano delle canzoni, diciamola tutta, orribile degli anni 70-80, quando i protagonisti più anziani erano ragazzini o giovani. Eppure questa amicizia, questo contrasto, porta anche degli elementi dolorosi. E questi elementi dolorosi in un primo momento sono giudicati con severità e poi accettati come fatto portante dell'età. In realtà la gioventù, insieme all'energia, porta molti elementi urticanti, molti elementi che possono sconvolgere, è parte della bellezza della gioventù stessa. Il film però ha anche un sottotesto, perché Baumbach, dicevamo, viene da un millier molto colto, è figlio di critici, figlio di intellettuali, e quindi fa anche una riflessione sul cinema, in qualche modo il suo è metacinema. Riflette sull'essenza stessa del cinema e del documentario. C'è un personaggio vagamente spiegato al grande D.A. P. Anna Baker, interpretato dal bravissimo attore Charles Grodin, che riflette su cosa bisogna veramente riprendere, cosa bisogna comunicare. Il cinema è verità o è sempre finzione? Ecco, tra questi due temi, la necessità di comunicare la verità, da un lato, e la gioventù che ferisce, ma che sconvolge, che porta vita, ci sta l'equilibrio di questo film gentile, intelligente, interessante, che speriamo venga conosciuto e apprezzato anche in Italia. Un saluto da Central Park West. Un saluto da Central Park Un saluto da Central Park